Turbativa da un disturbo alla circolazione stradale da parte della vettura nonostante l'assenza di collisione tra i mezzi. All'ex comandante dei carabinieri forestali di Villetta Barrea, Luca Pulsinelli, che morì a seguito di un incidente ad Opi il 15 giugno scorso, dopo essere caduto con la sua moto Suzuki 600, insomma venne tagliata la strada. E questo l'esito della perizia cinematica disposta dalla Procura della Repubblica di Sulmona e depositata ieri dal tecnico Marco Colagrossi a Palazzo Capograssi. Una ricostruzione che in realtà conferma il tragico testamento del conducente della Fiat Panda, Antonello De Arcangelis del Forno, che quella sera era alla guida dell'auto intestata alla moglie e che forse per paura scappò dal luogo dell'incidente, tenendosi dentro un segreto poi deflagrato in un gesto estremo quando cioè a fine settembre scorso l'uomo, 51enne di Opi, si uccise nella sua abitazione lasciando un biglietto nel quale ammetteva le sue responsabilità. Una tragedia nella tragedia che ha lasciato i sgomenti gli abitanti dell'Alto Sangro e di San Donato Valcomino nel Frusinate dove Pulsinelli aveva la famiglia e dove stava tornando quella sera di giugno. I carabinieri di Castel di Sangro d'altronde avevano già ricostruito i fatti grazie anche alle testimonianze di alcuni ciclisti che erano appena stati superati dalla moto di Pulsinelli e che trovarono il carabiniere forestale a terra vicino ad un moretto del canale di scuolo della Marsicana 83 dove il motociclista, sbattendo la testa, morì sul colpo. Aveva 54 anni. Un invito al bacio, al contatto da ritrovare anche nel buio di una sala cinematografica per ribadire a gran voce la grande bellezza della socialità e della partecipazione. È anche questo il Sulmona International Film Festival che dal 6 al 9 novembre torna al cinema pacifico di Sulmona per un festival da vivere riscoprendo la serenità di andare al cinema con le persone che amiamo. Vogliamo invitare le persone a partecipare alle attività culturali, ad andare al cinema, ad andare ai concerti, al teatro con i propri cari, quindi a toccarsi, a baciarsi di nuovo e a non avere paura del contatto. Quindi è un po' questo il nostro invito, quello di tornare a vivere le esperienze culturali che ci arricchiscono, ci fanno stare meglio. Presentato questa mattina presso l'Aula Consiliare del Comune di Sulmona, il programma della 42esima edizione del Sulmona International Film Festival che da un'iconica immagine cinematografica del passato guarda al futuro con 50 cortometraggi in concorso provenienti da 18 paesi in ciascuna delle otto categorie competitive. I temi di quest'anno sono molteplici e passano dal tema dell'identità, darato attraverso la lente dell'intelligenza artificiale, ma anche temi che riguardano il femminile, un femminile troppo spesso costretto a retrocedere, cortometraggi che riguardano l'ambiente e quindi l'attenzione all'ambiente come tema fondamentale oggi, documentari che raccontano la vita in maniera prospettica sul dolore e sul desiderio di rinascita, tutti cortometraggi che in qualche modo comunque ci portano a riflettere in maniera approfondita su come possiamo riscoprire la nostra umanità. 15 prime italiane e tanti temi trattati dai registi giovani talenti per i quali il Sulmona International Film Festival si conferma come una delle vetrine più ambite, non solo corti ma anche lungometraggi fuori concorso come Anywhere Anytime del regista iraniano Milad Tangshir e Familia di Francesco Costabile, mentre ospiti del dibattito post-film con Francesco Alò saranno Eros Puglielli e Lillo Petrolo per un viaggio nel multiverso della serie appena sbarcata su Netflix Sono Lillo 2. Anteprima il 3 novembre con Musica e parole dalla parte del pianeta, evento gratuito dedicato a Cristiano Godano, leader dei Marlene Kunz che al foyer del teatro Maria Caniglia dialogherà con Nicolas Ciufferri. Disastro colposo e omissione e violazione dei doveri d'ufficio perché, dice la procura di Sulmona, quel fiume che scorreva sotto il ponte di Molina Terno, crollato il 18 gennaio del 2023 doveva essere manutenuto, pulito, gli argini liberati dalla flora morta, dai rami minacciosi, dalla ghiaia accumulata. Per i due tecnici del genio civile, organismo incaricato dalla regione di provvedere alla manutenzione delle aste fluviali, è arrivata così ora la richiesta di rinvio a giudizio della procura di Sulmona. Con le immagini che arrivano da Valencia e da Bologna, d'altronde non c'è spazio per sottovalutare il rischio, cosa che avrebbero fatto, secondo la procura, con atti omissivi Carlo Giovani e Gilberto Di Giorgio, rispettivamente responsabile del servizio e dell'ufficio tecnico del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti del Genio Civile. Non solo, oltre a non aver provveduto alla manutenzione ordinaria del fiume né del ponte, i due sono accusati di aver sottovalutato l'allerta meteo che dal 16 gennaio era già a livello giallo. Una condotta che, dice il procuratore Edoardo Mariotti, ha procurato un disastro con conseguente e concreto pericolo per la vita o l'incolumità di un numero indeterminato di persone. Per i periti del Tribunale, d'altronde, la struttura non è crollata per la portata d'acqua che non ha causato lo straripamento, ma per l'inadeguatezza strutturale del ponte, su cui pure non era stata fatta alcuna manutenzione e che doveva essere demolito dal 2009, e soprattutto dall'accumulo di detriti nel fiume che hanno occluso l'alveo premendo e facendo crollare il pilone centrale del ponte. L'udienza per eliminare è stata fissata per il prossimo 6 marzo. Per quella data, chissà, dovrebbero partire anche i lavori di ricostruzione di quel ponte, che fortunatamente crollando non ha fatto vittime, ma che ancora oggi provoca l'isolamento di un pezzo della valle su Bequana.